Un caro saluto, buongiorno a tutti voi cari telespettatori, benvenuti alla rassegna stampa del mattino, sono le 7, siamo in diretta, canali 17 di Fano TV, subito pronti per sfogliare i giornali che abbiamo selezionato per voi e che commenteremo come tutte le mattine ormai facciamo da 15 anni, allora partiamo dal santo, vediamolo subito, il santo di oggi è Santa Pollonia, l'alba alle 7.18 e il tramonto alle 17.32 Uno sguardo a trebimeteo.com, nuove perturbazioni in settimana con maltempo, clima più freddo e neve, gelo e neve verso l'Italia dal fine settimana di San Valentino, se andiamo a sbirciare sabato 13 di febbraio, così come abbiamo visto e detto ieri in anticipo con il nostro telegiornale, con il collegamento che abbiamo avuto con Cangiotte, andiamo a vedere il sabato pomeriggio, vedete, ecco sabato pomeriggio nella nostra regione sono previste anche nevicate, è probabile che queste nevicate arrivino fino alla costa. Intanto per la giornata di oggi, bollettino della protezione civile delle Marche, sono previste per oggi precipitazioni sparse nelle zone interne, anche a carattere di breve rovescio e isolate altrove, mentre, attenzione ai venti di burrasca forte o tempesta sulle zone alto, collinari e montane, mentre burrasca sulle zone collinari. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, mercoledì 10, il tempo ancora è nuvoloso, con precipitazioni diffuse e anche a carattere di breve rovescio nelle zone alto, collinari montane in occasione e invece occasionale altrove. Vedete la neve sui Sibillini, mentre un po' ancora mista neve a pioggia nel settore settentrionale perché le temperature insomma sono in lieve aumento. Per quanto riguarda giovedì 11 invece il tempo migliora, soltanto un po' di residui piovaschi durante la notte al primo mattino al sud della regione. Poi un miglioramento venerdì e l'ingresso di una nuova perturbazione con aria fredda di origine artica, come abbiamo visto, porterà poi le nevicate forse anche sulla costa. Adesso i giornali. Corriere Adriatico, edizione di Pesero, le marche resteranno gialle, i dati della prima settimana di febbraio infatti confermano un rischio moderato ed una tendenza RT sotto quota 1, quindi cosa significa? Che ancora respiriamo, però insomma vediamo questi assembramenti degli ultimi giorni se produrranno qualche effetto. Dal monitoraggio di venerdì prossimo non dovrebbero arrivare ulteriori dunque restrizioni e il commercio respira. La fotonotizia invece, la burocrazia è una trappola per i cantieri, per la ripresa dell'edilizia, la spinta del super bonus, poi cluster screening all'Istituto Leopardi di Pesero per oltre 300 alunni, ricci bonus tari, mezzo milione da destinare alle categorie in difficoltà a Pesero. La stretta invece a Fano, una foto incastrerà chi gira senza mascherina e la tragedia dell'A14. In A14 l'odissea per recuperare gli animali, ricerche notturne dell'EMPA per ritrovare cani e gatti scappati dopo lo schianto dove sono morti i volontari. E' stata un'avventura notturna per questo recupero di tutti quei cani, di quei gatti mancanti all'appello dopo il tragico schianto in A14 che ha coinvolto nel primo ore di domenica il furgone staffetta di EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, dove hanno perso tragicamente la vita i volontari Elisabetta Barbieri e Federico Tonin. Mentre sul Carlino di Pesero la fotonotizia è per i tamponi agli scolari, test di massa per la prima volta in una primaria e in una scuola media, mentre case di riposo si riparte con i vaccini, circa 50 ospiti e operatori sottoposti al siero in via Spada e la regione annuncia l'arrivo di nuove dosi. Sgarbi che doppia la multa, lui però fa ricorso, sono un deputato, dice partecipò alle cene proibite di carriera, sulle medicine saranno più accessibili per i diabetici, è stato aggiornato il software Tari. Il comune di Pesero rimborsa le imprese fino al 50%, stanziato mezzo milione a Monteporzio, CIG, cassa integrazione pagata prima se saltate la pausa di 10 minuti e scatta lo sciopero. Dunque l'intervento evidentemente di qualche genio che ha detto se qualcuno salta la pausa la cassa integrazione verrà pagata prima. Questo in sostanza era il tenore e che ha fatto ovviamente scattare poi gli scioperi. Povero cucciolo invece, l'altro titolo di taglio basso sulla prima del Carlino di Pesero, era stato adottato questo cucciolo, poi è morto, era riuscito ad uscire dal furgone che si è schiantato in A14. Poi presi dal senso di colpa, i banditi si costituiscono, picchiarono un collega a Montellabate. Allora diamo uno sguardo come sempre facciamo alle pagine dedicate alla Covid per avere un'idea di come stanno andando le cose nella nostra regione. Allora meno contagi, questo è il titolo del Corriere Adriatico di oggi, sintomatici in calo le marche vedono ancora giallo. Dunque i dati della prima settimana di febbraio confermano un rischio moderato ed una tendenza dell'RT sotto quota 1 ma pesa l'incognita della variante inglese che fa correre i contagi nella provincia di Ancona. I decessi sono in frenata. Dal monitoraggio di venerdì non dovrebbero dunque arrivare ulteriori restrizioni stazionari alla saturazione delle terapie intensive e dei reparti di area medica. Per chi ha avuto invece, andiamo a pagina 11 del resto del carino, chi ha avuto il Covid, chi ha avuto il Covid non deve fare niente vaccino, perlomeno questo è il parere dell'infettivologo che dice in questi casi si avrebbero molti effetti collatorali, lo dice il professor Galli che è un volto notissimo possiamo dire perché da quando è iniziata questa pandemia lo vediamo continuamente in molte trasmissioni, interviste e quant'altro. E il professor Galli dice chi è stato infettato possiede già una memoria immunologica, dunque basta con i piani vaccinali talebani. È inutile vaccinare, scrive Alessandro Malpelo del resto del carino, sul resto del carino questa mattina, è inutile vaccinare chi ha avuto il Covid-19. L'afferma Massimo Galli che è infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano che nutre dubbi sull'opportunità di sottoporre richiami anche quelli che hanno contratto l'infezione e quindi sviluppato le difese naturali. Gli effetti indesiderati sono spesso più marcati dopo l'iniezione e c'è chi lamenta nausea, capogiri, altri presentano linfonodi ingrossati e stati febbrili. Ora l'orientamento attuale invece prevede che anche i convalescenti sopravvissuti alla pandemia vadano vaccinati. Ecco la domanda è ci spiega perché l'eccesso di preoccupazioni si rivela controproducente e Galli risponde. Guardi abbiamo avuto diversi medici e infermieri vaccinati che hanno riferito effetti collaterali a una risposta eccessiva del sistema immunitario al vaccino. Nulla di pericoloso ma la seconda dose è anche più fastidiosa della prima nei soggetti che hanno già superato l'infezione. Alcuni suoi colleghi dicono che in certi casi si potrebbe fare a meno dei richiami. Credo anch'io, dice Galli ancora in questa intervista, che abbia poco senso convocare due volte chi si è ammalato ed è guarito perché possiede già una memoria immunologica. Finora si è affermata una linea talebana per cui se obiettavi qualcosa venivi bollato come irresponsabile. Ma l'atteggiamento però sta cambiando. La domanda ancora è ci può fare un esempio? La risposta. Io ho davanti a me una dottoressa di 55 anni che si è negativizzata il 20 novembre. L'hanno vaccinata il 15 gennaio e viste le reazioni non farà la seconda dose anche se un protocollo che potrei definire demenziale prevede che siano tutti riconvocati senza eccezione. Poi l'intervista prosegue sul resto del Carlino di questa mattina. Poi sempre sulle vaccinazioni. Il Corriere Adriatico a pagina 4 ecco i vaccini agli under 55, chi ha meno di 55 anni. Per ora sono 6.300 e aspettiamo regole precise. è atteso il primo stock dei sieri AstraZeneca con utilizzo preferenziale tra i 18 e 55 anni. L'assessore regionale Saltamartini dice pronti per gli over 80 ma prima c'è l'ultima conferenza Stato-Regioni. Mentre sulla pagina 3 del Corriere il virus mutato. Questo è il vero problema che in questo momento crea qualche preoccupazione in più soprattutto nella nostra regione perché non tanto nella provincia di Pesorubino quanto in quella di Ancona c'è questa situazione del virus inglese mutato che si sta diffondendo parecchio soprattutto nelle scuole. Ora questo virus accende Focolai come titola il Corriere questa mattina e ora Ancona fa dalla locomotiva. La provincia del capoluogo ha aumentato i casi del 20% in 7 giorni. Dunque a Coroli il governatore dice no a zone rosse o arancioni su determinate aree. Preoccupa la vicinanza con Perugia dove circolano due varianti. Quindi la nostra vicina Umbria insomma c'ha non solo quella inglese ma anche quella temutissima quella che fa un po' più paura effettivamente che è la variante brasiliana ed è proprio qui vicino a noi dietro casa si potrebbe dire in Umbria. Ora quindi questo dovrebbe in qualche modo anche spingere noi marchigiani a restare nella nostra regione ed evitare di spostarsi anche se ce ne fosse la possibilità ma solo in casi davvero eccezionali perché sia la variante inglese che quella brasiliana insomma si diffondono con molta velocità. Dunque questa è la pagina del Corriere Adriatico. Mentre sul Carlino di nuovo a pagina 3 vaccini agli anziani si riparte da via spada. Qui siamo all'interno del fascicolo del Carlino di Pesero e si parla di questo siero, di questo vaccino targato Moderna che è stato somministrato anche a una donna di cent'anni, una centenaria. Una prima dose ieri pomeriggio a otto ospiti e poi a 36 operatori. Tra 28 giorni avranno il richiamo ma ancora c'è incertezza sui tempi per le nuove forniture. Tra l'altro questa Benedetta Iacomucci questa mattina scrive che la signora Bianca 101 anni ad agosto era la più impaziente di tutti. Aveva aspettato il vaccino a lungo e le pesavano pure quei minuti di attesa per riempire la modulistica. È scesa da sola senza l'aiuto di nessuno dalla sua camera al piano di sopra della casa di riposo di via spada e un secondo dopo aver ricevuto il siero senza accusare nemmeno un giramento di testa se n'è tornata nelle sue stanze. E queste sono le fotografie appunto di questi vaccini, di queste operazioni di vaccinazione in questa casa di riposo. Equip medica di cinque persone al momento non si registrano reazioni avverse mentre il programma come dicevamo è un po' a singhiozzo se le scorte arriveranno il piano proseguirà con casa Aura e poi Roverella. Mentre sulla variante inglese come dicevamo il Carlino di Ancona ci spiega un po' com'è la situazione. Dicevamo la provincia di Ancona è quella un po' più colpita da questa variante inglese. Ci sono oltre mille alunni praticamente a casa. Tamponi di massa davanti alle scuole, decisione drastica per tutti i plessi dell'istituto comprensivo soprano di Castelfidardo. L'Asur sta organizzando un'area drive truck. Ora il sindaco di Loreto dice invece preoccupato sono pronto a chiudere i parchi pubblici. Contagio e focolai in aumento nella città mariana. Dobbiamo fare di più. Questo per dirvi perché sapete che il primo caso della variante inglese fu proprio scoperto in una famiglia a Loreto. Poi sembrava tutto circoscritto ma poi come si sa il virus essendo invisibile fa quello che vuole e con chi vuole e quindi la situazione è sfuggita. È difficile anche il tracciamento e di conseguenza adesso circola con una certa libertà nella provincia di Ancona. Siamo in allerta dice Acquaroli ma ora nessuna zona rossa. Il governatore era sicura sulla variante inglese. La situazione dice è sotto controllo. Se pregiora però siamo pronti ad intervenire. Negli ultimi giorni la metà dei contagi nell'Anconetano sono da variante inglese. Scrive Pierfrancesco Curzi sul Carlino di questo passo la cosiddetta variante inglese non andrà più chiamata così visto che nelle marche ormai presente in misura molto ampia. In provincia di Ancona ad esempio i casi emersi dall'analisi dei tamponi molecolari processati sono tali da rappresentare la parte preponderante rispetto a quella invece appartenente alla variante europea classica. Cioè ci sono quasi più quelli colpiti. Chi ha il covid ha più la variante inglese che quella europea classica. E fino a pochi giorni fa la regione ha minimizzato ma la situazione rischia di sfuggire di mano. Le cose sono andate avanti in maniera abbastanza tranquilla fino a metà di gennaio. Dice Stefano Menzo della virologia dell'ospedale di Torrette. I casi di variante inglese erano davvero limitati e circoscritti ad alcuni focolai e comunque sotto controllo. Però da metà gennaio in avanti le cose sono cambiate scrive il giornale questa mattina. E come sono cambiate? Sono cambiate perché sono iniziate ad aumentare in maniera costante rappresentando fino a circa un terzo del totale dei positivi in provincia di Ancona. E negli ultimi dieci giorni una vera e propria esplosione al punto che quasi sempre il numero dei positivi alla variante ha rappresentato più della metà dei contagiati covid. Questa dunque è la situazione. Tra l'altro le scuole sono quelle di Tolentino, di Castelfidardo e lì c'è veramente molta attenzione, c'è molta preoccupazione. Però speriamo che riesca a rimanere circoscritto in qualche modo in quell'area e non vada altrove. Ecco dove il virus mutato fa più paura in provincia. Valmusone, Ancona, Città, Iesi e Senigallia sono considerate le zone più a rischio. L'apparato tecnico sanitario della Regione ha inviato un allarme alla Giunta. Ora io so che è un anno che ce lo diciamo, ma torno a ripetere che c'è una soluzione a tutto questo, cioè c'è uno scudo di difesa. Non è vero che il virus ci salta addosso così come se niente fosse, ma ci vuole la copartecipazione nostra. Quindi ribadiamo ancora una volta che se uno sta distante, usa correttamente la mascherina indossandola fin sopra il naso e non sotto o non a sciarpa, sotto il mento che non serve a niente. Quindi la mascherina fino al naso coperta bene e mantenendo le distanze, lavandosi e igienizzandosi le mani, questo è uno scudo di difesa, non dimentichiamocelo mai, che impedisce di ammalarsi, impedisce di prendere il virus. Quindi c'è una difesa che noi possiamo attuare, non siamo del tutto sprovvisti. Quindi chi si ammalo evidentemente è perché ha sbagliato da qualche parte, quindi di questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Biodigestore, cambiamo argomento. Sulla pagina 12 anche l'occhio vuole la sua parte, questo si cerca di rendere l'impatto visivo il meno forte possibile, parliamo e siamo sulla pagina di Pesero Pian del Bruscolo, conferito l'incarico ad uno studio di architettura per realizzare una struttura che si integri nel territorio e il colore sarà verde, il verde di questo biodigestore. Mauro Tivirola di Marche Multiservizi dice puntiamo ad un sistema di qualità che renda minimo l'impatto visivo. Dunque questo biodigestore non sarà brutto, come lo abbiamo visto nei rendering della prima ora, a progettare questa vesta architettonica coniugandola alla funzionalità impiantistica, sarà uno studio che è di Pesero e questo biodigestore dovrà sorgere, come abbiamo ormai capito, a Talacchio. È morto Guido Angeli, fondatore dello storico scatolificio a Vallefoglia, imprenditore di 80 anni, molto stimato a Montecchio, domani alle 15 il suo funerale nella chiesa di Santa Maria Assunta, le condoglianze anche del sindaco di Vallefoglia Palmiero Ucchieri. Poi addio a Severini, postino storico, aveva 67 anni, l'abbraccio dell'associazione sportiva Vallefoglia, oggi alle 15 a Montecalvo nella chiesa di San Nicola, il suo funerale alle ore 15. Severini è morto all'età di 67 anni all'ospedale Santa Croce di Fano, era residente a Montecalvo in Foglia ed era una persona molto conosciuta per aver svolto il servizio quarantennale di portalettere, quindi pensate quanta gente ha incontrato, quanta gente ha conosciuto, quante notizie belle e quante notizie magari meno belle ha consegnato per tutti quegli anni. Arceci, un'altra figura storica del comune di Pesero che va in pensione, si cerca il suo successore, il braccio destro dei sindaci, prima portavoce di Ceriscioli, poi capo di gabinetto di Ricci, a fine mese lascerà l'incarico ma per un anno darà il suo contributo in forma gratuita. L'uomo della quadratura del cerchio, tessitore e risolutore, eminenza grigia con il talento del pedagogo e la sensibilità dell'artista. Cuccioli in fuga dopo il tragico schianto, un'avventura per ritrovarli sani e salvi, i volontari dell'EMPA non hanno avuto spazio per piangere la morte della storica attivista e dell'autista Federico Tonin e Betti Barbieri, volontari dell'EMPA e Melampo di Pesorefano. Ci sarà il tempo del dolore, delle lacrime, ma domenica subito dopo il tragico incidente sulla corsia nord della 14, quando il furgone che trasportava cani e gatti destinati all'adozione si è schiantato contro un camion che aveva appena subito un incidente, i volontari pesaresi hanno dovuto darsi da fare per il recupero degli animali mancanti all'appello dei 50 cani e 13 gatti trasportati. Andiamo sulla pagina di Fano invece del Corriere Adriatico, perché? Perché si parla di tutti quelli che a Fano girano senza mascherina e per loro c'è la sanzione con tanto di fotografia. La foto invece che pubblica il giornale è della comandante della polizia locale Annarita Montagna, che annuncia una stretta e dice lo scatto, la fotografia cioè, sarà per documentare la violazione e quindi nessuno potrà dire non è vero, io ce l'avevo e ce l'avevo indossata. La fotografia è quella, la prova, diciamo la pistola fumante, la prova del 9, quella che non si può in qualche modo obiettare. Allora, non ci sarà più alcuna tolleranza, leggiamo alcune frasi della comandante, non ci sarà più alcuna tolleranza, chi verrà sorpreso senza mascherina verrà multato senza prendere in considerazione alcuna scusa. Ora, Montagna annuncia la linea dura nei confronti di chi non osserva la più elementare norma anti-Covid, anche affanno l'epidemia continua ad infettare giovani anziani e purtroppo provocare anche uno stilicidio continuo di decessi. Ora, questa è una buona, anzi una buonissima notizia, quindi complimenti davvero anche per questa decisione della comandante Annarita Montagna di usare, come si dice giornalisticamente, il pugno duro, anche se Annarita è la comandante, conoscendo, è una persona mite, che prima di arrivare al pugno duro vuol dire che, insomma, ne ha di ragione da vendere in questo caso. Quindi, come abbiamo detto prima, il virus, per difendersi dal virus bisogna indossare la mascherina, stare distanti e lavarsi e igienizzarsi, ecco, se qualcuno poi non lo fa è un irresponsabile e gli irresponsabili giustamente vanno puniti. La cucina a fuoco, la solidarietà di Ristoritalia, in epoca Covid, è un dramma, la collega Carlotta può contare su ognuno di noi. Dunque, piena solidarietà a Fano dell'Associazione Ristoritalia, alla collega Carlotta De Santis, del ristorante La Mandria, per quel principio di incendio che ha danneggiato, per fortuna, lievemente, la sua cucina, domenica scorsa, è costretto all'evacuazione della clientela. Ovviamente, per un ristorante, subire un danno alle cucine è già di per sé un grave problema in tempi normali, dice Lorenzo Vedovi, il portavoce di Ristoritalia. In questo momento, così particolare, possiamo immaginare, insomma, come scrive Veronica Angeletti sul suo articolo, che potrete trovare sul Corriere di questa mattina, in un momento così difficile potete immaginare cosa significhi oggi avere per un ristoratore la cucina a fuoco, praticamente non poter lavorare. E quindi il Ristoritalia, in questo articolo, dice per Carlotta, che è la titolare, non ti preoccupare, ci siamo anche noi, ti daremo tutto l'aiuto possibile. Andiamo a vedere invece il Carlino di Fano. Carnevale senza maschere, senza maschere anche nei negozi, quasi scomparsi gli articoli per i travestimenti e per la prima volta, dopo 40 anni, il mascheride di via da Serravalle resta chiuso. Mentre dal Castagnolo alle chiacchiere le ricette degli anziani finiscono in TV. Vedete qui Maria Elena Delbianco con due cuoche durante una foto postata, in un momento di, prima di iniziare le riprese di questo programma, che è molto seguito. Sono programmi che stiamo trasmettendo, appuntamenti che stiamo trasmettendo qui su Fano TV, Canale 17, prima, anzi no, subito dopo il telegiornale. E quindi sono ricette che si possono in questo periodo realizzare con facilità. La denuncia dei redditi online è la notizia che trova sempre, suscita sempre un po' di curiosità. Questa volta i politici in questione sono i politici fanesi, a pagina 21, sul Corriere Adriatico di questa mattina troverete un po' quanto guadagnano i nostri assessori, sindaco e quant'altro. Allora, in giunta, nella giunta di Fano, il più ricco è l'assessore fanese che ha denunciato 49 mila euro. Chiude la Tonelli con 20 mila. Per tutti gli assessori e i consiglieri comunali vige l'obbligo, secondo il criterio della trasparenza, di pubblicare i loro redditi. Tra gli esponenti di giunta, chi ha evidenziato la cifra più alta nel 2020, e quindi che si riferisce agli incassi del 2019, è il vice sindaco Cristian Fanesi, seguito dal sindaco Massimo Seri, con poche migliaia di euro in meno. Tra i restanti sei assessori, ben quattro hanno denunciato meno di 30 mila euro. In particolare il sindaco Seri ha denunciato un reddito complessivo lordo di 46.231 euro rispetto ai 44 mila, quasi 45, dell'anno precedente. Poi tutti i dettagli nell'articolo che ha scritto Massimo Foghetti questa mattina, con tutte le cifre. L'orto di mare, verdure in spiaggia, l'originale progetto propone al bagnante di raccogliere gli ortaggi e di acquistarli. Sotto i cavoli dell'Eco Museo a Metauriglia sta crescendo un progetto che vuole tramandare il sapere degli ortolani. Ma non solo, il sapere viene condiviso e messo al servizio di chi coltiva e di chi, turista o bagnante, vuole conoscerle le qualità. E spesso chi viene qui al mare da noi e che magari abita a Milano, nelle grandi città, gli ortaggi li vede solo al supermercato. La terra la tocca una volta all'anno. E quindi è importante anche per far fare questa esperienza in mezzo alla natura, se vogliamo. Poi Vallato, San Lazzaro e Metauriglia sono i tre fronti della rigenerazione. Fano si candida al programma nazionale per la qualità dell'abitare e le smart city. Mentre sul Recovery Fund, cabina di regia unica, si struttura il patto tra Fano e i comuni delle Valle del Metauro e del Cesano ed sono stati fatti anche dei passi avanti. Sgarbi ricorre contro le multe per le cene a pagina 5 del resto del Carlino. Sono le multe elevate il 6 di novembre a chi frequentò il ristorante chic di Fano e la grande bellezza di Monbaroccio. Sgarbi dice, io facevo politica in quel momento, sono un deputato, quindi non gli sta bene e probabilmente ricorrerà. Il conto intanto è servito. 20 mila euro di sanzioni ai commensali di carriera sono i verbali inviati da Carabinieri e Polizia Municipale per le serate ribelli a Candelara, a Fano e a Monbaroccio. Per chi si muove invece in automobile, domani e giovedì ci saranno degli interventi, dei lavori che chiuderanno per due giorni la strada della Contessa, ma il traffico dall'Umbria non sarà pesante perché la regione dell'Umbria è in zona rossa. L'ANAS deve effettuare rilievi geognostici per avviare il risanamento e l'ipotesi di un nuovo tracciato è già stata elaborata anche con tratti pianeggianti. Poi associazione ambientalista all'attacco degli impianti da sci, 11 sigle unite contro gli investimenti per le risalite, c'è sempre meno neve, le difficoltà per il turismo. La ciclabile, buon progetto ma solo lontano dai binari, Ferrovia Vale del Metauro o Ferrovia Valmetauro ricorda che la distanza di rispetto vale anche per le linee turistiche e quindi continua a tener banco questa notizia che riguarda appunto la ciclabile. Mentre a Fossombrone sui contagi il sindaco Bonci chiede più responsabilità, non possiamo controllare tutto e tutti, dice ognuno deve fare la sua parte, è quello che dicevamo noi poco fa. Prolunghiamola a complanare unendo Marotta a Tombaccia, incontro del comitato Fano Sud con il sindaco Barbieri e l'assessore Baldelli. Bivacco alcolico invece nelle scalinate per il castello, San Costanzo, mentre sono in corso lavori di riqualificazione, lo sfregio dei rifiuti abbandonati, come si può vedere in questa fotografia dove c'è questo boccione, questa bottiglia abbandonata. Ora, data Vuglia, vi segnalo questa notizia invece a pagina 26 del Corriere Adriatico dove si parla di un club da 26 anni pronti a tifare per Vale. Vale chi è? Valentino Rossi, ovviamente siamo il club più vecchio al mondo, compleanno e GP cresce l'attesa nel quartier generale di Rossi. Fratesi dice non vediamo l'ora di tornare sui circuiti. Andiamo sull'altra pagina invece, da Senigallia, matrimoni in calo e non è solo... Com'è? È un po' tardi, sì, 7.29, hai ragione. Matrimoni in calo, non solo per il virus, tanti rinvii per il Covid, boom a settembre, sette le coppie più coraggiose che si sono sposate durante il lockdown. È tutto, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e ci vediamo stasera alle 20.30 con il TG. Grazie a tutti.